il confronto con i miei contotemi sembra abbastanza evidente considero che anche qua abbiamo un duo youtuberiano un maschio e una femmina il maschio è il rincoglionito la femmina quella intelligente piena di valori positivi dove c'è un nemico che vuole sconfiggerli il target per bambini quindi è chiaro che sia facile fare questa comparazione fra i d'insieme i miei contro te eppure questo prodotto che non è bello anzi abbastanza bruttino anche fin troppo riferito ai bambini al pubblico a qualcosa che di positivo ce l'ha sicuramente è un film che non è per tutti chiaramente io l'ho guardato perché così per completezza ma non avrei dovuto vederlo quindi ritengo che questo film non sia terribile solo molto sconsigliato per chi non è un bambino di otto anni però tutto sommato ho trovato che ci sia una cura un piccolo sforzo produttivo banalmente i costumi sono adatti per le scenografie se vogliamo dire così c'è un minimo di quarenza di fondo che lo rende minimamente guardabile con un occhio ovviamente fanciullesco salve sono arcane hammer benvenuti oggi ho visto due film quindi vi porto i contenuti non proprio il primo giorno ma il secondo terzo giorno perché ero fuori dalla mia bologna e quindi incominciamo subito vi invito a iscrivervi condividere perché ho un sacco di schede che metterò qui in alto con le ultime uscite al cinema parliamo di sto film velocemente viaggio leggendario 2023 80 minuti del duo youtuberiano d'insieme diretto da alessio liguori e con herbert ballerina wow herbert ballerina che è lui che parla con la s moscia ecco questa è la grande caratterizzazione ma di che parla questo magico film sembra un po jumanji l'idea cioè questo c'è questo duo che viene imprigionato in questo mondo di un videogioco dal cattivo di turno che è una specie di signoresse de me contro te che ha un fratello che poi queste vicende sono legate anche alle vicende youtuberiane dei due che hanno successo dicono perché sono al cinema ci sarà una ragione non seguo quindi non so niente il film ti spiega anche quei piccoli collegamenti se un amico e nemico eccetera eccetera arrivati in questo mondo c'è una sorta di multiverso in cui ci sono tre regni se mi ricordo atlante camelo terreno le diamanti e qua c'è da salvare il mondo in questo caso i tre universi che il cattivone di turno vuole fare fa fa ok questo è in breve vado veloce lato tecnico in realtà non è malissimo la parte più carina gli effetti speciali sono da quattro soldi però sono guardabili le scenografie sono guardabili lato tecnico è guardabile non è esaltante ma non è brutto la regia osa anche dei cambi di fotografia fra che ne so i momenti molto scuri e poi c'è la luce come detto i costumi sono abbinati quindi lato tecnico fotografia regia non è da buttare le recitazioni i protagonisti sono un po quello che sono alcuni secondari non sono male sono teatrali si vedono che vengono dal teatro vecchie glorie magari c'è platone che abbastanza in parte ecco poi c'è come si chiama ginevra di dire artù ecco ci sono queste cose i loro due i principali sono abbastanza dei dei cagnacci ma non ai livelli che vi aspettate andiamo sulla narrazione ovviamente super basilare super basilare e direi quasi che il problema è che anacronistica perché di un'ingenuità paiono quei film disneyani degli anni 60 70 50 è talmente candida è talmente anche l'ironia non è facilona perché è tutto fatto per un'altra epoca e uno pensa nel 2022 ancora fanno questi film quindi c'è un'ingenuità di fondo incredibile mentre me contro te sono un po smaliziati se vogliamo un pochino smaliziati lo sono qua invece c'è proprio questa ingenuità di fondo che è fiabesco fiabesco assolutamente fiabesco che sia un pregio un difetto non lo so lo valuterete voi perché ha visto il film la narrazione oltre questo essere basic vabbè con le cringiate con le battute ma non è eccessivo a differenza di quello che mi sarei aspettato e ha dei momenti diciamo drammatici che un bambino potrebbe fare emozionare ecco a una battuta o riso devo essere sincero all'inizio film con il robottino per il resto niente per il resto è così le musiche sono abbastanza adatte il comparto sonoro è abbastanza adatto le scenografie sono abbastanza adatte è un film inutile brutto ovviamente però si può giustificare seguendo un po quella che la prospettiva di un film di youtube che va al cinema sbagliato sicuramente ma per un pubblico più piccolo un film inutile brutto ovviamente ma per un pubblico più piccolo